Ho rispolverato questo sogno che avevo già da tempo di attraversare tutto quanto l'arco alpino pedalando lungo la linea di confine e andando a scalare tutti i colli mitici che hanno reso il ciclismo famoso nel mondo e che hanno caratterizzato i ciclisti eroici del tempo. Ho detto va bene, se te la senti, vai. Mi ricordo che mi diceva, è un po' come tornare a casa. Il tuo sogno deve essere un sogno che sia coerente con quello che sei. La mia vita in realtà è piena di momenti, di situazioni in cui ho preso l'avviso e ho deciso di andare verso l'ignoto.